Le posizioni ormai sono chiare. Partito Democratico e gli uomini di Tosi hanno dichiarato guerra all'Ursti Bassano. Sono loro a fare ostruzionismo ormai da mesi in Consiglio regionale, dove si discute il riordino della sanità veneta. Per PD e Tosiani l'Ursti Bassano va cancellata, nessuno sconto ad un territorio già martoriato dai tagli continui. Prima la chiusura del Tribunale, poi l'archivio di Stato tuttora a rischio, ora anche la sanità. Eppure se in Consiglio a guerra aperta nei confronti di Bassano, fuori assemblea, il Partito Democratico smentisce la contrarietà all'Ulspide e Montana. Mai detto questo, abbiamo chiesto alla maggioranza che ci presenti un criterio omogeneo per la definizione delle Uls. Stiamo a quello che è scritto sul piano socio-sanitario, per esempio, che i bacini ottimali sono dai 300-400.000 abitanti. Ci sta benissimo, ma allora se ci sta benissimo lì ci deve stare benissimo anche dalle altre parti. Per il PD dunque, se si salva Bassano, bisogna garantire uguale trattamento anche nelle province di Verona, Treviso e Padova. Se quello è l'ottimale, e ci sono ragioni per dire che è ottimale, lo deve essere anche da altre parti, dove anche altre conferenze hanno chiesto che gli venga riconosciuto. Ma il dubbio sorge. Non è che il concetto di tutti o nessuno è solo l'ennesimo pretesto per penalizzare ancora una volta il bassanese? PD e Tosiani, giù le mani dall'Ulsti Bassano.